Il terzo esercizio è curl a martello, è un altro esercizio fondamentale per le braccia e ricordiamoci sempre la stessa postura, quindi gambe divaricate all'altezza delle spalle e ricordiamoci la schiena dritta, quindi l'addome glutei contratti. Quindi, quando salgo, espiro, scendo, inspiro. Ecco, per questo esercizio una raccomodazione da fare, avete presente sempre di non ruotare i polsi e lo stesso vale anche per i gomiti. Il gomito deve formare un angolo di 90 gradi. Quando salite... Ecco, abbiamo completato il tris di esercizio sulla parte alta. In particolare, vediamo quali sono i muscoli interessati di questo set. Allora, i muscoli interessati erano principalmente i bicipiti brachiali, il deltoide e il grande pettorale. Ovviamente, quando si esegue un esercizio, sono coinvolti un po' tutti i muscoli del corpo, però in particolare hanno lavorato questi gruppi muscolari. Come si fort dicevi, insieme a tutti i muscoli interessati di questo sistema. Die città è uneler di alessi, unilassio, un belico senz написato di questelami, le spirito dei lucrati. Grazie a tutti